Il mio primo gol in Serie D è veramente un'emozione unica, perché fare gol è sempre una bella emozione. Poi questo gol rinchiude un po' tutto, diciamo, dai, il sacrificio che facciamo noi da squadra, i sacrifici che facciamo lontani dai nostri genitori, è veramente un bel momento, dai, perché noi non veniamo da un momento positivo, è un momento negativo che speriamo sarà la vittoria altre consecutive, dai, speriamo ci saranno altre vittorie. L'isola manca tanto, massimo rispetto per i tifosi, per la squadra, dei miei compagni, l'isola sì, mi manca tanto, però è sempre bello tornarci a giocare, quindi anche questa è un'emozione, giocare contro l'isola, giocare contro tutti i miei compagni è una grandissima emozione. Veniamo da un periodo negativo, come sappiamo, sappiamo tutti, che abbiamo perso tante partite, e niente, ci dobbiamo riprendere, dobbiamo ripartire da questa vittoria, perché veramente abbiamo vinto, sì, però non ci dobbiamo fermare, dobbiamo continuare verso la nostra strada e come ho detto questa vittoria ci deve far capire tante cose. Non era il caso di esultare, come ho detto, perché ho rispetto per tutti i tifosi, ho rispetto per l'isola, ho rispetto per tutti, quindi non mi sembrava proprio il caso di esultare.